Vedi come vanno quelle gambette lì? Mi fanno male perché le ho allenate ieri Andrea. Ma dopo l'ultimo workout di ipertrofia tutto gambe a corpo libero hai notato crescita e incrementi? Diciamo che ho notato più che altro dei blocchi. Va beh allora preparati perché oggi ti faccio fare il replay ma tutto sulla parte superiore. Va bene andiamo? Va bene allora diamo un minimo di spiegazione sul workout che facciamo oggi. Sarà il replay per così dire dell'allenamento gambe che abbiamo fatto pochi giorni fa e che magari già che ci siamo facciamo comparire come link qua sto in alto. Quindi sarà un allenamento finalizzato all'aumento della massa muscolare e dell'ipertrofia sia per uomo che per donna tutto a corpo libero quindi senza nessunissimo tipo di attrezzi e sfruttando delle tecniche di alta intensità. Ok. Ok? Nello specifico siccome sulle braccia siamo tutti un pochettino più deboli rispetto che le gambe faremo quattro esercizi anziché i cinque che abbiamo fatto per le gambe. Due saranno esercizi di spinta, due saranno esercizi di trazioni così andremo a coinvolgere tutti i gruppi muscolari delle gambe. Delle gambe. Delle gambe. Piccolo lapsus. Braccia e strana. Delle braccia. Della parte superiore. Perfetto. Ok? Bene. Come sempre adesso spiegherò il primo esercizio con il quale partiamo dopodiché gli esercizi successivi spiegheremo le varie pause. Ok Andrea perfetto. Delle braccia e non delle gambe. Ok? Ok. Vado? Vai. Faccio vedere prima. Benissimo. Chiaramente un allenamento per la parte superiore non può non cominciare con degli ottimi push-up. Quello che abbiamo giuti. Esatto. Mi metto in posizione in maniera che venga visto bene. Allora il push-up è questo giusto? Sì. E questa è la tecnica regolare di esecuzione. Noi cosa faremo? In realtà partiremo dalla parte bassa del movimento. Ok. Eserciteremo una spinta fino a raggiungere circa metà dell'arco di movimento. Ok. A questo punto ci fermeremo qua per tre secondi. Riconterò io. Uno, due, tre. Dopodiché scenderemo. Toccato il pavimento ripartiremo di nuovo a metà. Uno, due, tre. E andremo avanti. E quindi eseguiremo una serie di dieci ripetizioni. Proprio perché credo che a questo punto a maggior parte della versione stiamo facendo una faccia come la tua. Va bene. Ma dieci ripetizioni in questo ritmo dureranno circa 40 secondi. Ok. Quindi bello tosso. Siamo pronti? Va bene. Andiamo a partire? Se ho il tuo consenso io farei vedere anche nel caso delle versioni un po' più semplici. Te lo ha consenso. Vai, 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 vai. Va bene. Ci sto. Tu la fai semplice? La faccio semplice. Vai. E molto semplicemente appunto le farò sulle ginocchia. I ginocchia. Va bene. Se appena si veda ancora meglio. Scusami covaso se ti darò una penata. Siamo pronti? Prontissimi. Allora partiamo da giù in realtà. Al mio piede si spinge pronti? Partenza via su fino a metà e contiamo. Uno, due, tre. Giù. E uno. Ti conto le ripetizioni come l'altra volta. Esatto. Uno, due, tre. E giù. E su. Uno, due, tre. E giù. E su. Vieni. Uno, due, tre. E giù. Siamo a quattro. E su. E uno, e due, e tre. E siamo a cinque. Dai che siamo in età. E su. E uno, e due, e tre. E giù. Siamo a sei. E su. E uno, e due, e tre. Come va a vedere? Inizio a tremare. E su. E uno, e due, e tre. Otto. E giù. Dai ultimi due. E su. E uno, e due. E tre. Nove. Ultima. Se non ce la fai più spingi anche senza sollevarti. Invece ce la fai, stai su. Anziché tre secondi, cinque. E due. Vai, vai, vai. E tre. E quattro. E cinque. Giù. E il primo esercizio è andato. E l'abbiamo fatto. Ok. Bravi. Com'è andata? Guarda, ti dirò, verso la sei sette ho iniziato ad avere un tremolio, un bruciore. Che non vedo l'ora di fare gli altri tre esercizi. Tranquilla perché adesso alterneremo. Ho cominciato con un esercizio di spinta. Ora ci portiamo in un esercizio di trazione. Ok. E ti facciamo recuperare davanti e iniziamo a stancare dietro. Va bene? Sì. Falto subito con la spiegazione, se no la pausa si allunga eccessivamente. Anche in questo caso mi metto in questa posizione. Mettiamo le braccia in questo modo sul pavimento, quindi descrivono degli angoli di 90 gradi. Ci eleviamo leggermente e spingiamo con i gomiti verso dietro, verso dentro. Ok. Rimanendo in questa posizione. Quando siamo qua, strizziamo letteralmente come se voressimo schiacciare una piccola nocciolina tra le scapole. Ok? Ok. Oh, spiegare la pace giù. È più difficile. Tenendo l'igometria poi. Va bene? Ok. Quindi ripetiamo, facciamo il movimento, arriviamo lì, squizziamo per un secondo, track, e poi lasciamo andare. Ok. E giù. Ok? Ok. Perfetto. Movimento lento a scendere, squizza un secondo e ripartiamo. Benissimo. Credo che il minutino di recupero è passato, per cui andiamo. Ok. In posizione di lavoro. Ci stiamo bene. Posizione di partenza questa. Su con la schiena e vai. Squizza. E uno. Lento. E due. Vai. E tre. Vai. E quattro. Sempre dieci in posizione. Vai. E cinque. Tenete strizzato anche un po' i gomiti. E sei. Vi aiuta. E sette. E otto. E nove. E anche l'ultimo. E anche l'ottino. L'ottino. Dieci. Oh! Oh! Bellissimo! Wow! Si sente mandre. Guarda, ti dirò. Sulla schiena sono un po' più forte rispetto a chi. Nel contrario. Sì? Ho fatto quasi più fattura che l'altro. Va bene. Ci compensiamo. E quindi giungelo. E quindi farò un altro di spi. Ciò fare, giustamente. Ciò che almeno compensiamo. Ok. Parto subito? Vai. Parto subito. L'esercizio sarà questo. Ci mettiamo in una posizione di V. Perché faremo il V push up. Ok. Quindi assumiamo una posizione più acuta possibile. Perfetto. Ok. Il massimo che vi permette la flessibilità delle nostre gambe. Dopodiché andiamo giù qua alla fronte. E spingiamo. Questo è il movimento. Fronto in mezzo alle mani. Fronto in mezzo alle mani. Ok. Lo faccio rivedere per sicurezza. Quindi così. Scendo. Sfioro. Ritorno. Ok. La tecnica di intensità invece è il super lento. Quindi faremo tre secondi a scendere. Tre secondi a salire. Per un totale di dieci ripetizioni. Vi faccio vedere anche il timing. Quindi. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Ok. Perché lo dite a Fede che passo. Siamo pronti? Va bene. Dai. Proviamoci. Vediamo quante ripetizioni riesco a fare e se riesco a farle tutte le dieci. Ma sicurissimamente sì. Allora do un'indicazione subito. Se non riesci a completare le dieci. Arriva quella che riesci a fare. A massimo. Sei. Sette. Sette. Ti fermi e poi eventualmente faremo un'altra serie. Ok? Quindi semplicemente se non riusciamo ci fermiamo prima. Esatto. Ok. Sono pronta. Tre. Due. Uno. E dai. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Fede che ce ne contami. Brava. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Due. Tre. Siamo a tre. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Siamo a quattro. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Siamo a cinque. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Siamo a sei. Uno. Due. Tre. 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si trema, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ultima, 1, 2, va più lento, 3, aggiungi un 4, 1, 2, 3, e 4, sai che io la special finale la infilo sempre. Andre però ti posso dire che non stavo peggio, l'ho fatto tutto tranne i due secondi di special finale. Consentiti, consentiti, bravo. Ok, la ultima notizia perché era il terzo e penultimo esercizio, non ci rimane che vedere il quarto. Dai, faccio vedere questo ultimo. Allora, questa volta mi metterò in questa prospettiva qui, in maniera che si veda bene, ci sdraiamo a pancia in su, sono inquadrato bene Fede? Benissimo direi. Gomiti a 90 gradi rispetto al busto, in maniera che possano esercitare una pressione sul pavimento, perché grazie a questa pressione poi ci andremo a sollevare. E questo è l'esercizio. Anche qui come se avessimo una nocciolina in mezzo alle scapole da andare a strizzare. La tecnica di intensità consiste nel fare quello che abbiamo fatto nel secondo esercizio. Quindi controllo bene il movimento, arrivo su, squizzo un secondo e lascio andare. Ok? Attenzione a non barare perché qui è un attimo attivare l'addome, tirarsi su con l'addome, concentriamoci bene. Salire di culo, non salite di culo. Saliamo di spalle. Ok? Proviamolo. Dai. Dai. Di nuovo all'indietro. Ci mettiamo le spalle. Ci stiamo? Sì dai. Un po' di due. E allora tre. E allora due. E allora uno. Vai. Spingi, squizza e scendi. E uno. Spingi, squizza e scendi. E due. Spingi, squizza e scendi. E siamo a tre. Spingi, squizza e scendi. Quattro. Squizza. E cinque. Spingi, squizza e scendi. Sei. Spingi, squizza e scendi. Sette. Vai. E giù. Otto. Spingi, squizza e scendi. E l'ultimo. Siccome dobbiamo finire un po' di più. Tienilo, 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 tienilo. E vai. E dieci. E ok. Bene. Fine del workout per ipertrofia. Braccia. Fatto. Vedi. Allora direi che essendo io l'ingegnere di questo workout darò io le indicazioni da aggiungere. Benissimo. Allora ti lascio fare. Grazie, grazie. Oramai se segui il canale e se non lo segui. Seguilo. È ora il momento di sottoscrivere. Ti ho bruciata una delle due annotazioni. Se segui il canale sai che in questi workout facciamo sempre vedere una serie per ogni esercizio e lasciamo a te il compito di decidere quante serie fare in base al tuo livello di allenamento. Il mio consiglio può essere questo. Se sei un principiante, quindi una persona che sta facendo per la prima volta o sta riprendendo dopo tanto tempo ad allenarsi, può essere sufficiente l'unica serie che ci hai visto fare qua nel video. Viceversa, se il tuo livello di allenamento fosse medio potresti salire a 2-3 serie per ogni esercizio che abbiamo visto insieme sempre alternando un minuto di recupero tra le serie e tra gli esercizi. Mentre se sei un pro e quindi il tuo livello di allenamento è decisamente elevato puoi spingerti fino alle 4-5 serie da 10 per ogni esercizio che abbiamo visto. Arrivato a questo punto la progressione si fa semplicemente sul numero delle ripetizioni e ti posso garantire che con questo tipo di evoluzione del lavoro, pur non avendo attrezzi in casa l'aumento del tono muscolare, se sei una seminuccia, e della massa muscolare, se sei un maschietto, giungerà lo stesso. Ok? Vero, confermo. E devo dire, Andre, che mi sento già più forte sulle braccia. Mi senti pompata già un po', no? Sì, sì, mi sento proprio muscoli della schiena che tirano. Bello. Esatto. E' l'effetto delle tecniche di intensità questo, ok? Bellissimo. Lo si percepisce subito. Bene, Fede, io le mie notazioni di fine workout le ho dette tutte, ma proprio tutte, tutte, tutte. Hai detto pure le mie, praticamente. Io ho già bruciato una delle tue classiche, ma secondo me verrebbe la pena di prepararla. Ripetiamo, ribadiamo il concetto, se non l'hai ancora fatto, puoi iscriverti al nostro canale, perché oltre a questa tipologia di workout troverai tantissimi altri allenamenti, ma non solo. Ci sono tanti video in cui spaziamo a 360 gradi nel mondo del fitness, affrontando le varie tematiche. Siamo pieni di playlist. Clicca, clicca. Esatto. Siamo pieni di playlist su ogni genere di argomento. Bravo, molto bene, molto bene. Ma, c'è un ma. Ma se tutto questo non dovesse ancora bastarti, perché sei veramente insaziabile e hai fame di fitness, allora non ti resta che... Non abbiamo mica solo il canale YouTube. Abbiamo anche un bellissimo sito che trovi all'indirizzo justwareness.co. Fede, te lo sta mostrando, io lo metterò in sovraimpressione sulle sue manine. E cosa trovi su justwareness.co? Oltre che i video che vedi su YouTube, troverai tantissimi programmi di allenamento, proprio schede di allenamento, vere e proprie schede di allenamento, fatte sia per l'home fitness, ma anche per quando si tornerà in palestra. Alla, ce n'è veramente tantissime. Tutto gratuito. Ma solo schede di allenamento? Tutto, stavo dicendo. Brava. Tutto correlato anche da programmi di alimentazione, ok, che puoi abbinare questi programmi di allenamento e schede tecniche sugli integratori per andare a potenziare quello che fai con allenamento e alimentazione, ma non solo. Il sito justwareness.co trovi anche la nostra community, che abbiamo amorevolmente e amichevolmente chiamato Fitness Family. Sì, sì. Perché è formata da tutte persone come me e Federica, che vogliono approcciare al fitness con il sorriso sulle labbra e senza veramente nessun tipo di rinuncia. Esatto. Insomma, ci piace maniare. Ci piace maniare. Ci piace maniare. Ci piace raggiungere i nostri obiettivi. Yes. Ma con la gioia di farlo, senza rinunce, senza sacrifici. Giorno dopo giorno sempre più allegri e felici. Ricordatevi che il fitness è passione e benessere. Che gioia, gioia. E quindi ti aspettiamo nella nostra family. Yes. Ti aspettiamo sul nostro canale. Sicuramente. E ci vediamo al prossimo workout. E ci salutiamo. Ciao e buon workout da Andrea. Ciao e buon allenamento da Federica. Non so perché, ma che appunto... Ma che mi ha piaciuto. Lo faccio. A prego.